Buona domenica. Oggi 29 settembre è la ventiseiesima domenica del tempo ordinario. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai farisei, c'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. Ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse, padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo rispose, figlio ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali. Ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi. E quello replicò, allora padre ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose, hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. E lui replicò, no padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Abramo rispose, se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgerse dai morti. Il profeta Amos vive nel Regno del Nord, al tempo di Gerovamo II, in una società ricca e potente, dove certo ci sono ingiustizie sociali e molti poveri dimenticati. Ma chi dovrebbe preoccuparsi di questo? Il profeta si scaglia allora con vehemenza contro questa società di ricchi che dimenticano i poveri, che considera normale una differenza così smaccata tra chi ha tutto e chi non ha nulla. Nelle sue parole non c'è un giudizio preconcetto contro il progresso o la ricchezza, ma piuttosto l'annuncio di quanto queste cose possono anestetizzare la sensibilità, rendere incapaci di comprendere la prova e la difficoltà di chi ci vive a fianco. È come vivere in una perenne ebrezza, un'orgia dei buontemponi, come la chiama lui. Questo permetterà alla società di Amos di avviarsi spensieratamente ed allegramente verso la sua più crudele rovina, costituita dall'invasione nemica e dall'esilio. È un destino tragico che ha segnato tante civiltà e che rischia di travolgere anche la nostra civiltà del benessere, che provoca allegramente malessere e povertà in due terzi del mondo. Il profeta non ha dubbi sul giudizio di Dio e sul fatto che prima o poi saremo risvegliati nel giorno del rendiconto. Gesù, con una gustosa parabola, presenta lo stesso insegnamento offerto dal profeta Amos, ma interpellando più direttamente non tanto un'intera società peccatrice quanto i rapporti di ogni singolo con i fratelli che incontra sulla sua strada. Un insegnamento diretto ai singoli che non ha nulla quello precedente indirizzato a tutta la società. Anzi, lo rende ancora più forte e responsabilizzante. È una parabola ben raccontata, dove anche i particolari apparentemente marginali sono preziosi. Del povero Lazzaro sappiamo il nome. Gesù ci dice che si chiama così, Lazzaro. E questo nome significativo, Dio è venuto in aiuto. Questo è il significato del termine Lazzaro. E' proprio questa la sua sofferenza, il suo bisogno estremo che attira su di lui l'attenzione di Gesù. Per questo lo vede. Non vede altri. E non ricorda il nome di altri nella parabola. L'unica cosa preziosa che Lazzaro possedeva era il suo nome. E Gesù ce lo ricorda. Il ricco aveva tante cose ma non ha nome. Perché quando per una persona le cose sono più importanti della sua vita, allora quella persona non ha nome. Diventa una cosa anche lui. E' un ricco e basta. Quanti uomini che vivono solo per i beni che possiedono, in un perfetto disinteresse per quanto accade attorno a loro potrebbero essergli sostituiti. In qualche modo il ricco è diventato come una delle sue monete, intercambiabile, freddo, insensibile, senza volto, ma giunge la morte e tutto si capovolge. Lazzaro adesso è nel seno di Abramo, cioè secondo il linguaggio biblico è al centro del paradiso. Il ricco invece è incatenato e sottoposto alla tortura della sete. Eppure anche da quella condizione non riesce a vedere il Lazzaro altro che un servo che possa venire ad alleviare la sua sofferenza, uno che gli porti l'acqua. Abramo ricorda allora il grande abisso che è stato creato tra i due uomini e diventa chiaro che l'abisso non è stato posto da Dio con un giudizio estremamente severo. E' invece il ricco che in tutta la sua vita ha costruito questo abisso che lo teneva separato da Lazzaro e da tutti quelli come lui. E' il ricco che nella vita ha ucciso ogni possibilità di comunicazione con il fratello Lazzaro ed ora è impossibile che questo fratello possa soccorrerlo. Il suo inferno se lo è costruito da sé. Cerchiamo di non imitarlo. Grazie. Grazie.